Eccoci al ristorante di Pambè Sì, vabbè, le luci sì, sono diverse Però le tendine sono queste Siamo al ristorante dove hanno tirato il film Bambè Con Bambè e Reggiani Palà del 1982 E siamo proprio qui Purtroppo volevo il tavolo lì nel centro Ma non ci sono tante Cosa abbiamo di nato? Tante cose buone da questo super menù Esatto Allora, due fritture Gliacamista, antipasto Inquadriamo un po' i calici Vuoti Calici di fuoco Che carino Ah sì, con l'argento e il baccalà Finito Ah ragazzo, ho dato fuoco No, scherzo Io lo soffio Io lo soffio No, scherzo Sì, no, in pratica si è mangiato proprio bene. Nel video parte 1 delle location di Bomber, appunto, vi faccio vedere qui tutta la spiaggia e ora hanno chiuso e non ci posso andare qui che bello ovviamente vi metto il link alla prima parte in descrizione. Ciao! Ciao!